... dei comitati, allora che musica sia, ma non può essere musica, senza aver chiamato il nostro attore, la nostra voce attorica, Cosimo Alversi. E' trovato? Grazie. Volevo chiedere prima di pensare un applauso per queste quattro scambaccarelle. Vieni, Caprici, Marinella, Maria e Stefano, grazie. Maestro, adesso sono pronto? Quando volete no, hanno deciso durante, maestro, prego. Buonasera. Buonasera. A brindare questo bel ruore e su e Grazie a tutti 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 Grazie a tutti